Buonasera ancora da Sanremo dall'Hotel Royale dove adesso ti ho portato e ho portato tutti gli ascoltatori di Radio Number One dei super ospiti. Andiamo ad addentrarci nel lato anche più particolare nascosto del Festival di Sanremo con questi ragazzi che ieri sera hanno cantato insieme ai Rama facevano parte del coro di Rama. Io li presento a partire da Sherita, benvenuta su Radio Number One. Ciao, ciao a tutti. E poi abbiamo con noi abbiamo... Alban. Alban. Elvira. Mogid. Sono Paola Leslie. Allora ragazzi è un piacere avere un coro gospel nel nostro studio e chiedervi anzitutto come vi siete trovati ieri sera a lavorare con i Rama, insomma come è stato portare un po' di gospel sul palco più popolare, più pop di tutta Italia, il palco dell'Ariston. Guarda, per me è stata un'esperienza unica e fin da subito abbiamo saputo che lui voleva un coro gospel per questo brano qui anche io che ho partecipato alla registrazione e in studio per la canzone lui voleva questo anche di portarlo fino qua a Sanremo perché per l'idea di avere il gospel come la preghiera all'interno di questa canzone bellissima è veramente un grande onore per tutti noi. Ecco, come si sta diffondendo il gospel in Italia al momento? Come lo vedete è un genere che sta crescendo per interesse, ancora un po' di nicchia? Chi vuole rispondere? Chiunque di voi? Andiamo... Vai, chiedo a te. Allora, il gospel in Italia si sta diffondendo tramite concerti che in generale si fanno a dicembre. Con Cioretta abbiamo avuto l'occasione di fare più concerti dappertutto in Italia e ultimamente anche in Sardegna e anche nelle chiese ci sono dei gruppi dei giovani cristiani, in generale anche africani che portano proprio questo messaggio dappertutto in Italia. Qual è il messaggio più bello di questa musica che trasmette agli altri? Guarda, questa è la parte più bella perché io canto tanti stili diversi ma da quando sono piccolo canto gospel, la cosa più bella del messaggio è il messaggio di Dio, il gospel vuol dire il Vangelo, cioè il messaggio di Gesù e tutto l'amore che Dio ha tanto amato al mondo che ha dato suo figlio Gesù. Veramente per noi il gospel in chiesa è gioia di celebrazione, condivisione, testimonianza, è una cosa molto piena di passione perché sappiamo che Dio è buono, che Dio ci ama e quando tu hai quel rapporto con Dio puoi esprimerti, c'è gioia, c'è come una festa, ti piangi, balli, canti, alzi le mani e non è un spettacolo per questo, è qualcosa che si sente dentro. Per cui quello è il messaggio, perché penso che nel mondo c'è tante negatività, tante cose brutte e la musica gospel è la speranza per l'umanità, la salvezza, il messaggio del riscatto, del perdono, di dare luce. Certo, e tra l'altro tu ci porti questa sera un tuo album, Charita, si chiama Keep Shining. Sì, Keep Shining che vuol dire brillare sempre. Questo disco è nato in mezzo di una situazione abbastanza pesante nella mia vita, quando è mancato il mio patrino e la mia mamma è rimasta vedova. E poi in quella situazione lì, di vivere tutta questa situazione di tristezza, lì ho scoperto un altro lato di cosa vuol dire vivere Dio come il tuo conforto, perché ero lì in America senza il mio marito, la mia bambina, di essere lì e sentirsi proprio rinforzato da parte di Dio in mezzo delle difficoltà, per cui di brillare anche quando è difficile, quando fai fatica, quando magari la gente ti va contro, di cercare sempre di portare luce agli altri. Ecco, il messaggio è questo, sono tutti i brani gospel, R&B sole, ineriti miei, che parlano di queste, superare le difficoltà con la fede. Allora, qui su Radio Number One, intanto grazie per questo bellissimo messaggio che ci avete lanciato. E non lo senti che questo cuore già batte per tutte e due, che dolore e cadosso non passa più, ma non sei più da solo, siamo in due, io ci sarò comunque va, oh ci sarò comunque vada. Grazie TG Events, TG Events, TG Events.